mmm, mmm, mamma mia mi girano ancora le palle per ieri ve lo giuro post partita Juventus-Frosinone cioè parlerò in breve di Juventus-Frosinone inizio col dire una cosa ma che giocatore è Kenan Hildiz cosa è? è nata una stella lo Juventus Stadium stella in turco è Hildiz e è letteralmente un mostro disumano questo giocatore 2005 ha giocato a dir tanto 5-6 partite nemmeno, già ha messo a segno 3 gol ok che l'ha fatti 2 col Frosinone 1 con la Salernitana però sono veramente gol favolosi soprattutto quelli col Frosinone e con la Salernitana tra i 3 ieri ha fatto il più brutto però comunque un super gol un giocatore che essendo un 18enne ha un senso della posizione soprannaturale veramente, un senso della posizione un movimento, una tecnica un dribbling, una velocità veramente clamorosa la Juve questo giocatore qua non lo deve assolutissimamente vendere perché questo può diventare veramente non dico un futuro pallone d'oro ma siamo lì veramente però calma calma lo dico soprattutto parlando con una persona che vuole bene cena che vuole bene che voglio bene come calciatore Hildiz perché nonostante giochi nella Juve questo qua è veramente un fenomeno sognerai di vederlo al Milan ora come ora non bisogna saltarlo troppo non bisogna saltarlo troppo perché c'è il rischio che saltando troppo questo giocatore poi gli vada a incidere veramente sulle prestazioni in campo perché se tu vai a esaltare tanto un giocatore poi su quel giocatore si creano sempre di più le aspettative e tu pretendi che quel calciatore ripeta sempre quello che gli si chieda ogni partita ma bisogna andarci con calma è un ragazzo da poco maggiorenne che gioca nella Juventus in Serie A a 18 anni cioè non è da tutti comunque un grande ragazzo è forte come giocatore ma l'ho detto non bisogna fomentarlo come quando Camarda doveva giocare la sua prima partita in Serie A c'erano troppe aspettative ma ce le dovevamo aspettare un ragazzo di 15 anni non è che può fare il boh il delirio in Serie A cioè bisogna capirla una cosa del genere poi certo ci sono dei ragazzi che ha 16 17-18 anni riescono già a essere decisivi comunque cioè riescono a ottenere le prestazioni che riescono a ottenere anche i professionisti comunque e quindi gli va fatto onore però ma ci sono dei ragazzi che hanno bisogno di più tempo cioè ok Camarda è alto 1,85 per 80 kg ma se lo guardi è uno stecchino cioè l'altra volta gli hanno messo a uomo Milenkovic che in confronto a lui è un gigante ci stanno 20 anni di differenza è normale che non può avere chance un pischello di 15 anni contro uno di 30 già bello grosso sviluppato cioè era palese però con Ildiz è un caso diverso anche perché Ildiz tiene 3 anni in più e comunque conta a quell'età avere 3 anni in più cioè non è come se hai 27-30 anni la separate 15-18 io che ho tipo 14 anni non è che sto sviluppato come uno di 18 però a quei livelli appunto incide tanto conta tanto avere anche un anno in più ad esempio tra Yamal e Camarda ovviamente per adesso Yamal ha dimostrato di certo di più ha dimostrato di essere un clamoroso fuori classe che ha una tecnica clamorosa fuori dal comune però anche Camarda secondo me può dimostrare tanto però il video era per parlare di Canan Ildiz e della Juve di ieri sera Juve che tende a vincere di lungo muso in Coppa Italia e di corto muso in campionato sembra che la Juve in Coppa Italia giochi più a viso aperto che abbia meno paura dell'avversario che abbia meno premura di giocare cioè tende molto più a giocare all'aperta infatti gli vengono fuori certe goleate che sono goleate da Inter goleate che fa anche l'Inter quindi la Juve dimostra di poterle fare non che diciamo tutti che la Juve fatica a vincere la Juve non fatica a vincere certo il gioco dell'Inter non è mai il gioco della Juve però la Juve vince 1-0 perché la Juve ha la cosa di mettersi dietro la linea del pallone e dopo l'1-0 gestire il risultato perché anche la Juve ne le può vincere le partite 4-5-0 lo sta dimostrando ha fatto 6-1 la Salernitana e 4-0 al Frosinone sono 10 gol in due partite l'Inter cioè non l'ha mai fatti 6 gol quest'anno ha fatto 5-9 però beh ha fatto 6 gol alla Salernitana e 4 al Frosinone la Juve invece l'Inter certo ha tanti 3-0 4-0 infatti la differenza dell'Inter è 35 quella della Juve è 17 però comunque la Juve le sa vincere le partite sa gestirle meglio dell'Inter quella è una cosa certa poi comunque l'avversario che la Juve ha battuto in Coppa Italia non sono di questo gran livello perché comunque ha vinto con Salernitana e Frosinone che sono due squadre di bassa classifica poi certo il Frosinone nella prima parte di stagione ha giocato anche bene perché il Frosinone sta giocando veramente bene anche perché ha ottimi giocatori che possono secondo me meritare anche qualcosa in più rispetto al Frosinone tipo Sule Monterisi Barrenecea questi sono ottimi giocatori Caio George c'erano troppe aspettative su questo ragazzo infatti guardate che fine ha fatto non fa gol manco con le mani Caio George però grande squadra il Frosinone secondo me certo grande squadra per quelle dietro secondo me potrebbero arrivare quattordicesimi quindicesimi che è la zona in cui sono adesso però comunque hanno vinto 4-0 con il Napoli campione d'Italia sciapo all'ora anche se il Napoli adesso sta in un maremoto in una crisi che non finisce più poi voglio dire anche due paroline in breve sulla Supercoppa poi ci farò un video più lungo per favore sono qui a chiederlo davanti a tutti Laziali Fiorentini Napoletani anche a voi sì cercate di non fargli vincere la Supercoppa per favore no perché se questi vincono la Supercoppa io lo so questi ce ne dicono di tutti i tipi ce fanno a pezzi questi perché noi non vinciamo un trofeo da tanto tempo abbiamo vinto solo uno scudetto negli ultimi sei anni loro hanno vinto due Supercoppe due Coppa Italia uno scudetto vederli vincere la terza Supercoppa sarebbe massacrante anche perché la finale l'hanno vinta contro di noi fatica a controbattere con loro giuro però ovviamente a Milano esistiamo solo noi a Milano c'è solo il Milan in questi anni facciamogli l'elicodene che tanto saranno gli ultimi anni che potranno essere così contenti e felici perché poi il multiverso smetterà di esistere perché sì a me sembra di essere finito nel multiverso anche sul gruppo di amici qui scrivo di calcio su su Whatsapp e ve l'ho detto ragazzi siamo finiti nel multiverso qui Milan e Roma che sono le prime squadre di Milano e di Roma perdono tutti i derby e le vincono Inter e Lazio che sono le seconde squadre di Milano e di Roma godetevi questi anni interisti che poi tornerete nelle foglie dove siete sempre stati perché il Milan riuscirà a ritornare sono 10 anni ormai quindi basta direi certo per fare quello che avete fatto noi dovete farlo altri 90 anni perché siamo stati 100 anni superiori a voi poi in questi ultimi 10 anni siete stati voi superiori però ce n'è di strada da fare ancora ancora ce n'è di strada da fare calma calma perché prima d'arrivo a noi ancora un po' ce vuole e niente niente comunque continuo a dire gran giocatore Kenan Ildiz veramente un fenomeno assurdo poi il vero protagonista di ieri sera oltre a Ildiz è stato anche Milik che ha messo a segno una tripletta uno su un calcio di rigore netto non ci sono proteste l'altro comunque un tiro a incrociare abbastanza ravvicinato e l'altro era un gol su un recupero palla di Locatelli che ha giocato anch'esso una grande partita Locatelli continua sempre di più a giocare bene niente direi che per questo video è tutto ci ribecchiamo domani con un altro video in cui domani sera comunque tutti a gufare l'Inter gli interisti milanisti e gli uventini domani sera dobbiamo riunirci ci prendono per il culo assai per sta cosa però dobbiamo farlo dobbiamo riunirci per gufare l'Inter sperare che il Monza il Monza i nostri i nostri cugini piccoli il Monza fermi l'Inter a cui manca di Gregorio il Monza però speriamo che il Monza fermi l'Inter che comunque ora non è formissima e poi riunirci anche per gufare tutti in Supercoppa ciao 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 Grazie.